Ciao amici e amiche! Come state? Ok! Riprendiamo un po' la mano con Burnout Paradise, tanto per avere qualche gioco di forza in più. Gara! Preparati a gareggiare, tu sei qui. Dirigiti a sud-ovest verso il Navagliari. Ok! Go, 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 go! Oh, bella lì! 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 Ok, va! E questo da, credo, non lo so forte! Grazie a tutti. Ok, andiamo a vedere più di qua. Oh no, non devi frenare così. Ok, andiamo a vedere più di qua. Ma partecipare, giusto? Sì, sì, no. Sbagliato! A Paradise City conta solo vincere! E questa era un'altra dritta di legge. Ah, c'era un qualcosa che mi diceva... Rifai. Sì, ma adesso... Vediamo che gara è questa. Tutto lo stradone. 3, 2, 1, via! E adesso devo girare a distra. Tutto in fondo. Tutto in fondo. Tutto in fondo. Proprio non l'ho vista. Dai, 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 riparti! Tutto dietro, ah! Una macchina c'era, un'altra. Un'altra macchina c'era. No Marco, non è possibile che non lo vedi, si è un po' di strada ma, non ce ne è tante di macchine a giro, questa è andata. E' via, e' via, grande, bella, ma non occupare la risa di maschera, allora vediamo un attimo che cosa c'è qui, beh ma non mi interessa tutto, mi ricordavo che c'era. Wow! Wow! Bello è tutto stato! Nooo! E' un'altra volta distrutto! E' già corretto, dai non ce la fai, ce la fai qua! Allora, la gara è sotto qua! Guarda, guarda! Guarda, guarda! 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 ma sparo. Questi erano i giochi tra i mega assurdi. Alcene due qua. Sì, dobbiamo andare. Bravo Marco. Riflessi prontissimi. Madonna ragazzi, sto arrendendo quanto che... No, non ho riflessi proprio, zero. Dai. Non puoi rifare la gara? No. Abbandonare un evento è semplice. Vedi, si può fare. Preparati a gareggiare. Tu sei qui. Dirigiti a sud verso il Lonstedio Reggio. Ok. Molto cattivo. Qua ho recuperato un po'. Anche se questa prima... Meglio. Va che... ... Non c'è di questo. Anche se scatta. Sì. No. no e il tasto X per usare il front e il tasto X per usare il front ok ah ah si ce l'ho fatta no no devo dire i cancelli bella bella lì quattro vittorie per la prossima patente ora circola la Hunter Vegas se la incontri mettila fuori gioco e aggiungila alla tua collezione ok io mi ricordo che facevo così questo gioco non mi faceva vedere più i cancelli e così li avevo fatti aspetta facciamo un altro facciamo un altro la se no rimangono sempre questi cartelli e uno sembra che non li ha fatti invece magari poi si è passati qui no 56 in 400 ragazzi mi rendete conto quel gioco incredibile burn out pare vera io speravo in un in un nuovo burn out oh ricorso ricorso ne ho preso la eccola 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 mia è stata inviata allo spacciacarrozzi eh 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 grazie bello un cacolotto grande ho fatto un bel po' di cose in questa posizione guarda che c'è un paletto il circuito bello 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 questa è una gara bello 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 vediamo se c'è qualche altra garetta fatti ecco sono queste che erano belle torte belle torte proprio non 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 andiamo Ho sbagliato. Porca loca. Ho sbagliato raga. Dovono andare giù in fondo. No. Inghietto di nà. Adesso è un po' di qua. Ma è vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Forza! Tutti di aver sbagliato! Dov'è che sto andando? Vai a ovest verso la windfire. E quando sei davanti mi tende a sbagliare la strada. Devo seguire quello che mi dice lui come... ...dicci da... ...dicci da... ...dicci da... ...dicci da... ...dicci da... ...bravo. ok tagliato o sbagliato però a presto ho sbagliato ancora ma caspita ho sbagliato ancora gu sbagliato ancora comunque questo gioco era veramente avanti tanta roba proprio non capisco per quale motivo non hanno non ne hanno fatto un altro dico la verità proprio tutto bellissimo sbagliato Ok. Ok. Bonta. Ok. E aqui cheio de corda pila estrada. Ok. 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 Porca. Ok. Reflexi brutti brutti brutti. Ok. 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 Grazie a tutti A ver se fa un po' devo girare Dai Bella C'era Comunque li potevo tagliare 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 Grazie a tutti. Adesso devo girare a destra. Ma dove stai andando Marco? Ma dove stai andando? Ma perché vuoi prendere le scorciatoie quando... Mi porto da tutt'altra parte. Ma dove l'ho portato? Incredibile, ragazzi. Non c'è 4-35. 5-35. Ok, ora andiamo. T avez un Un giro. Un giro. Un giro. Grazie a tutti. Forza, cioè, serio che l'ho fatto quattro volte e quattro volte non è mai dato dentro di qua? E me lo butta di qui? Ma dai, mi ha ributtato dall'altra parte. Come si può andare di qua? Arriviamo dall'altra parte qua. Come si può andare. Come si può andare di qua? 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 Boom, presa. Come si può andare di qua? 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 su Twitch e su tutti i social ma la cosa è importantissima YouTube, ciao amici e amiche, alla prossima Barnaut Paradise, Drive Barnaut Paradise City, Remastered Electronic Arts, Marco Drums Game Ciao